Con mister Sant'Alfonsi, mister domani altra gara in trasferta, la Samb in questa parte iniziale di stagione sta rendendo meglio in trasferta, come se lo spiega? Lo spieghiamo domani facendo un'altra grande partita in trasferta e poi cerchiamo di fare bene in casa, intanto pensiamo a quella di domani, non dobbiamo avere l'approccio che abbiamo avuto a Chieti, stesso modo di interpretare la gara, senza paura, senza convinti che siamo forti, convinti che siamo una grande squadra, lo dobbiamo dimostrare in mezzo al campo, siamo un gran gruppo e questo lo dobbiamo dimostrare in mezzo al campo. Nuova Florida, una squadra che, come diciamo sempre, in trasferta o in casa nasconde delle insidie, in questo caso quali sono le insidie di questa squadra? Sono un'ottima squadra, vengono da un momento negativo ma hanno dovuto partire in casa con degli squalificati, hanno giocato fuori, rimaneggiati, adesso domani rientrano tutti, quindi sicuramente avranno voglia di rifarsi, però quando arriva la samba avranno sempre quella voglia in più. A noi, ripeto, non dobbiamo pensare agli altri, noi dobbiamo pensare a noi stessi, sappiamo quello che dobbiamo fare, questi tre giorni siamo arrabbiati per il pareggio di mercoledì in casa e domani dobbiamo tirare fuori tutta la nostra grinta, tutta la nostra voglia di fare il risultato e vincere la partita di domani. La situazione dell'infermeria? Infermeria, la parte di mercoledì ha lasciato qualche strascico, Luca sta facendo di tutto, Lulli per recuperare, verrà con noi fino all'ultimo momento, proveremo e Consonno ancora non è pronto, Bianchini ha ancora dei problemini quindi non ci sarà e per il resto valuteremo domani, valuteremo tutto bene domani. Grazie a tutti.